Se vuoi crescere per davvero, sia a livello personale che spirituale, devi essere resiliente. Non ce n'è, non si scappa, non c'è tecnica che tenga. Qualunque percorso tu intraprenda, ti serve un mindset e una forza d'animo che ti permettano di andare oltre le difficoltà che immancabilmente ti si presentano. Questo vale in ogni area della vita, vale nel lavoro, vale nelle relazioni, vale nella salute, nello stare in forma. Ovviamente, a maggior ragione, vale nel percorso spirituale. E io oggi sono qui per darti la mia visione sulla cosa, sperando anche di poterti aiutare. Sono Sergio il Bruciacarma e sono qui per aiutarti a sciogliere le catene che tengono la tua anima in prigione. Se ti interessano questi argomenti, vuoi essere libero di essere te ogni giorno di più, iscriviti al mio canale perché ogni giorno rilascio un video che ti può dare una mano in questo. E cosa sono queste catene? Sono quei blocchi, quei condizionamenti, quelle energie negative che hai dentro che ti appesantiscono, che ti impediscono di pensare chiaramente, ti impediscono di fare quello che vuoi, ti impediscono di parlare, di dire la tua quando hai bisogno di farlo, ti impediscono di vivere la vita che veramente vorresti vivere. E questa cosa, purtroppo, va guadagnata nel tempo. Questa libertà va guadagnata. E ci vuole resilienza. Significa essere in grado di affrontare gli ostacoli quando vengono fuori. Ci sono tanti coach, tanti guaritori, tanta gente che crea tecniche e ne escono di nuove tutti i giorni, che ti dicono, pensa positivo, il modo definitivo per avere questo e quest'altro, la cosa tale per cui avrai tutto ciò che vuoi velocissimo e così via e così via e così via. Allora, non posso escludere a priori che qualcuno nel mondo abbia una tecnica allucinante, fortissima, che davvero ti porta a tutto quello che vuoi subito e non ci vuole fatica, non ci vuole resilienza. Se lo conoscete, fatemelo conoscere, per favore. Mi metterei subito a praticare la sua cosa. Io che ci ho messo del mio per trovare un sistema che funzioni, che dia dei risultati tangibili e concreti e semplici da raggiungere, mettiamola così, ci ho messo del tempo e anche in questa condizione comunque so che ci vuole appunto fatica per poterli avere. Per guarirmi la mia malattia al naso, che è una questione, una cosa cronica che avevo, i turbinati mi impedivano di respirare, ho fatto cinque operazioni, una lunga serie di cose. C'è il video sul dolore in cui spiego cosa mi è successo e ci ho messo tempo. Mi ci sono volute centinaia di ore di pratica per poterci riuscire perché era una cosa grossa. Era una cosa grossa. La mia tecnica, la resa interiore, è la cosa più veloce, più forte che ho trovato e l'ho sviluppata negli anni. Quando cominciai a praticare meditazione, non è che ero bravissimo subito, non è che non avevo pensieri, non avevo distrazioni e mi scioglievo i blocchi uno alla volta come se avessi il laser. Ok? C'erano le difficoltà, mi distraevo, non trovavo il momento giusto per farlo, non riuscivo a essere costante nella pratica. Una volta che mi sono in capo unito e ho deciso, no, io questa cosa devo riuscire a farla bene, se si può fare la voglio poter fare, voglio poterla fare bene, sono riuscito a trovare il sistema nella mia vita per poterla integrare in modo da praticare abbastanza da avere i risultati che volevo. Ci vuole tempo, ci vuole fatica. Mi dispiace rovinarti la favola, però purtroppo, purtroppo è così. Ora, allo stesso tempo, è importante scegliere le tecniche giuste, perché ci sono un sacco di cose là fuori che sono fuffa totale. Va bene, c'è quello che ti dice, sì, mettiti i cristalli, mettiti le pietre colorate, recita sto mantra, fai le visualizzazioni, fai le affermazioni positive, e poi però nella tua vita non succede niente, per davvero. oh, vieni, facciamo reiki, muoviamo un po' di energia, quello che è, e poi nella tua vita però non cambia niente, per davvero. Perché? Perché non cambi tu nel profondo, va bene, non fai questo lavoro interiore di rilascio di ciò che veramente ti pesa, di ciò che veramente ti trattiene. Vuoi, secondo me, trovare la maniera più veloce, più efficace per te, di fare questo lavoro. E ti dico una cosa, puoi anche avere il maestro migliore del mondo, inevitabilmente dovrai trovare il tuo modo di fare il lavoro su di te. Ma anche con la tecnica stessa, al di là del sistema di lavoro che scegli di avere e che sviluppi nel tempo, anche con la tecnica stessa devi trovare il tuo modo di farla funzionare per te. Qui sotto in descrizione trovi il PDF gratuito che ti spiega che cos'è la Direct Surrender, la resa interiore, la mia meditazione, e trovi anche la versione audio guidata che ti guida nel processo. Però, a furia di farla, dopo che hai seguito per un po' la mia guida, dopo che hai capito come funziona, devi trovare, e troverai, se pratichi abbastanza, il tuo modo di applicarla con te. Perché ognuno di noi è differente. Ed è lì che veramente comincerai a pedalare. Ci vuole un po' per arrivarci, ovviamente sin da subito inizierai ad avere i primi risultati, ma è quando veramente c'è quel click interiore che riuscirai a fare tua la tecnica. E io così ho fatto con me stesso, al punto in cui ora sto scrivendo un libro su come fare resa interiore. Ma ci sono stato tanto tempo, ma tante, tante, tante ore a provare e riprovare, a modo mio a vedere gli altri come la facevano, come facevano cose simili, e così via. Finché non arrivi a questo punto di rottura, è fatica. E finché non dai la priorità al lavoro interiore nella tua vita, difficilmente avrai dei risultati seri. Il lavoro interiore è una cosa seria, è una cosa fondamentale. Secondo me è la cosa più importante, perché se non fai il lavoro interiore, nella tua vita si continuano a ripetere dei loop, degli schemi che non ti soddisfano, che non ti fanno stare bene. Se hai, per esempio, la tendenza ad attrarre le persone sbagliate nelle tue relazioni, tu puoi lavorare, quanto ti pare, per fare un sacco di soldi, comprare una casa bellissima, voler fare una famiglia, però poi continua ad attrarre le persone sbagliate. E la famiglia si separa, si divide, perdi la casa, perdi i figli, perdi tutto. Perché? Perché non ti sei fatto il lavoro interiore prima. Oppure, se hai dentro delle insicurezze che non ti fanno riuscire nelle cose che fai, ma ti puoi impegnare quanto vuoi in ufficio a spingere, ti puoi stressare quanto vuoi nel cercare di fare tutto perfetto, se dentro di te c'è scritto che non ce la puoi fare, non ce la farai. Il tuo inconscio gioca contro di te. Hai dei sassi nello zaino che ti porti sulla schiena che immancabilmente ti tengono indietro. Quindi è fondamentale che tu prenda parte della tua vita il toglierti i sassi nel tuo quotidiano. Quanto spazio dare a questo decidi tu. Io lo faccio quasi full time. Ok? È letteralmente il mio lavoro, è la cosa a cui mi dedico. E ti posso dire non devi per forza fare così anche tu, ognuno di noi ha i suoi tempi e i suoi modi per fare le cose, però vuoi essere funzionale nel toglierti i sassi dallo zaino. Per arrivare a essere funzionale ci vuole tempo. Ci vuole un sistema intelligente che si integri nella tua vita in maniera utile, ok? Quindi in maniera che tu la possa sostenere questo progresso, ma ci vuole anche da parte tua uno sforzo. Se ti metti a fare resa interiore tutti i giorni e inizierai a vedere come il tuo corpo si alleggerisce, la tua mente si alleggerisce, la tua vita diventa più facile, più semplice. Ti rendi conto di essere un qualcosa di diverso rispetto a quello che pensavi. Ma devi farlo, devi farlo. Che succede? Che tanta gente inizia una qualsiasi pratica e poi molla. Molla alla prima difficoltà, molla alla prima distrazione, alla prima cosa che succede, oh no, che vede un'altra tecnica, alla shiny object syndrome, si dice, alla sindrome da oggetto scintillante. Vede un qualcosa che sembra più bello, sembra più figo, si mette a fare quello, poi passa alla prossima cosa, passa alla prossima cosa. Questo ci sta, è meglio di niente, comunque vedi tante cose diverse, se salti da una cosa all'altra, ma se vuoi dei risultati ti devi concentrare su qualcosa. È inevitabile, non c'è niente da fare. Una volta che trovi la cosa giusta, prendila e seguila. Io ho fatto così. Io, vabbè, ho la DHD, quindi ho la mente iperattiva, deficit da disattenzione, eccetera, mi piace provare tante cose differenti anche contemporaneamente. Quando leggevo, stavo facendo ricerca spirituale, facevo una meditazione cinese complicata, ero in Cina all'epoca, che non mi piaceva, non conoscevo altro, facevo, avevo imparato anni prima delle meditazioni tibetane, che però me ho dimenticato, comunque non mi dicevano troppo, conoscevo altre tecniche, però, meh, ero comunque ancora alla ricerca. Leggi un libro, leggi un altro, leggi un altro, finché non ho trovato Letting Go, di David Hawkins, e quando l'ho letto, ho capito che quella era la mia cosa da fare. Quella era la mia cosa da fare. Leggiti quel libro, è fantastico, Letting Go, The Pathway to Surrender, si chiama, e dopo averlo letto, mi sono messo a praticare la cosa che lui diceva, così tanto, al punto che, ho disegnato una mia tecnica, a partire dalla sua. E, ma questo ce l'ho fatta, perché? Perché ero super interessato, ad aumentare la mia vibrazione, a liberarmi dai dolori, che avevo dentro, e allo stesso tempo, ho trovato anche il modo di integrarlo, nella mia vita, con disciplina. se io ti dico, osservati durante la giornata, e sciogliti i dolori che hai nel corpo, sciogliti le reazioni emotive prima di agire, devi avere la disciplina di farlo. Se vivi la tua giornata e questa cosa non la fai, la resa interiore non ti funziona se non la fai. Giustamente, no? Devi anche sapere che, anche se, la tecnica che fai è semplice, è utile, c'è gente che ti dice che funziona, effettivamente funziona, ti serve comunque resilienza affinché funzioni nel lungo periodo per te. Se la fai una volta, vedi che hai del risultato, perché ti si scioglie il dolore nella gola, nel petto, nella schiena, dov'è, ma poi non la continui a fare la prossima volta, che si presenta la prossima emozione, non ti ricordi che la puoi fare e sei comunque fermo, stai comunque ristagnando. Ti serve una, ti serve una mentalità che ti dica io non mi fermo, qualunque cosa mi arrivi, va bene, oggi magari non ho meditato o non l'ho fatto bene, mi sono distratto, non ci sono riuscito, va bene, domani ricomincio, domani lo rifaccio, finché questo magone non se ne va, io da qui non mi alzo, io da qui non me ne vado. Io così ho fatto col mio naso e sono stato malato per 26 anni, non ho respirato dal naso e ce ne ho messi tre per stapparlo, di cui gli ultimi sei mesi in particolare mi ho concentrato solo su di lui e ero arrivato al punto in cui dicevo no, senti sai cosa, io non mi alzo dalla sedia, non mi alzo dal cuscino di meditazione, non scrocio le gambe perché le avevo sempre incrociate all'epoca per meditare finché il mio naso non si stappa, finché il mio naso non si stappa, non me ne vado. ci vuole questo tipo questo tipo di risoluzione, di risolutezza per toglierti i blocchi di dosso perché sono resistenti, sono incastrati, sono trincerati dentro di te. Non è una roba semplice togliersi la negatività di dosso, scusatemi, è una cosa semplice togliersi la negatività di dosso perché sono poche le cose che devi fare ma è difficile, è difficile perché è trincerata bene, è incastrata bene, non se ne vuole andare. Il blocco a livello profondo sì si vuole sbloccare ma anche no, ma anche no, devi superarlo con la tua concentrazione finché non arrivi al punto in cui lui si arrende. Una volta che arrivi lì è una goduria, è una figata, il corpo gorisce, la mente gorisce, ah che bello tutto. Ma finché non ci arrivi è fatica, è fatica, devi sapere che è così. Questo vale nella spiritualità come in ogni altro ambito della vita. Un sacco di gente vive di scuse, accampa scuse su scuse e cerca la soluzione facile e cerca la soluzione esterna. Cerca il cristallo, cerca l'altare, cerca la strega che gli fa la cosa ma sta roba qua non lavora veramente nel profondo dentro di te. Non sei veramente responsabile di te se fai così. Quindi, spero di averte aiutato e motivato a fare lavoro su di te. fatto bene a prendere questa disciplina, questa risoluzione con te stesso e se vuoi una mano in questo percorso vuoi farti aiutare c'è la possibilità di candidarti con me. Devi essere disposto a investire tempo, denaro ed energia per poterlo fare. Perché non è semplice, non è per tutti. Però, se hai la mia guida hai la possibilità di evolvere molto molto in fretta perché tutti gli errori io li ho già fatti al posto tuo. è un cheat code, va bene? È una cosa che ti fa bruciare la partenza, ti fa andare più avanti più velocemente. Se ti può interessare c'è la possibilità di farlo. E detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!